Si ricomincia con il dramma rifiuti, raddoppiate le quantità provenienti da fuori province conferite nel Sannio, precisamente nella discarica di Sant'Arcangelo Trimonte. Dalle 200 tonnellate giornaliere degli attuali conferimenti si vorrebbero superare le 400. Le quantità supplementari deriverebbero stavolta dal Salernitano. La richiesta di questo surplus di carichi di rifiuti è venuta alla provincia di Benevento dalle strutture della protezione civile e dalla stessa regione campagna. Immediate ferma la protesta dell'assessore provinciale di Benevento all'ambiente Gianluca Ceto, il quale dopo aver discusso della questione con il presidente della provincia cimitile, ha scritto una lettera all'unità operativa della protezione civile, all'assessore all'ambiente della regione campagna e agli omologhi delle altre quattro province, per bloccare ogni conferimento straordinario ex-provinciale e per richiedere una convocazione urgente di un incontro per individuare le soluzioni più idonee che non aggravino ancora una volta la situazione della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, penalizzando ulteriormente il sagno. La tanto annunciata prima delle elezioni regionali chiusura dell'emergenza rifiuti in campagna, ha commentato a Ceto, non corrisponda alla realtà dei fatti, i quali ci riconsegnano le preoccupazioni peraltro ben note. La chiusura della seconda linea dell'inceneritore di Acerra nel giro di poche ore ha comportato la pressante ripresa di conferimenti straordinari a Sant'Arcangelo di 200 tonnellate al giorno per 30 giorni dalla provincia di Salerno e la necessità di conferire il materiale pretrattato proveniente da Casalduni nella stessa discarica.